Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro Otto di Torino. Salve a tutti, bentornati. Salvate se sono rimasto un po' assente in questi giorni. Io sono Simone e oggi ho iniziato di raccontarvi una serie che sta facendo scalpore attualmente. Si tratta del Has Been Hotel. Una serie animata statunitense del 2024, creata da Vivian Mendrano per Prime Video. La serie parla di Charlie Morningstar, cosiddetta principessa dell'inferno, alla ricerca di un modo per la riabilitazione dei demoni, così da permettere loro di entrare in paradiso. Già però prima si era già sento parlare di questa serie, ovvero Has Been Hotel, ovvero nell'episodio pilota che è successo, che è stato pubblicato su YouTube il 28 ottobre del 2019. È stato realizzato interamente da animatori freelance, quindi ha molte tipologie di stili. Forse che sono tutti fluidi o forse tutti statici, ma del resto è stato un grande aiuto di comproduzioni. Quindi apprezziamo il grande lavoro che hanno fatto i nostri ideatori. Ed è anche stata finanziata grazie a tutti i suoi follower di Mendrano, grazie anche al Patreon. E se non ci siete, potete anche iscrivervi. Il pilota ha avuto 32 milioni di visualizzazioni in soli sei mesi, e nel mese dell'uscita della serie ne conta ormai 100 milioni. La serie fu comprata dalla A24 e Bento Box Entertainment, che all'inizio annunciò l'uscita di questa serie per l'estate del 2023, ma poi uscì il 19 gennaio del 2024. Come è possibile? Io proprio non lo so, ragazzi. La serie è originale proprio di Amazon Prime, visto che hanno deciso di trasmettere proprio in questa serie. Una serie divertente, intrigante e molto, molto innovativa. Cambia tantissimo la prospettiva che si ha dell'inferno, e forse, forse anche nel paradiso. Ma non sono venuto qui a spoilerare. E quindi, se non vi... e quindi vi invito a vederla. Se non siete ancora riusciti a vederla, ancora. Quindi, vedetela. Oh, e grazie... Quedanze a tutti voi a vederla. Ora, per lasciarvi, o in generale, per riuscire a darvi qualcosa che vi possa interessare la serie, ho intenzione adesso di citarvi uno dei brani del famosissimo Demo della Radio. Spero che vi piaccia. Tocca a me, e sai hai tu a perdere, sai perché, temerai. Lo stato squaio, lo scuoglierò, quanto ci codrò. Ciao a tutti, qui è sempre Laila, e oggi vi ho portato qualcosa un po' diverso dal solito. Bensì, oggi vi ho portato la versione tradotta in italiano di un doppiaggio in inglese americano che ho trovato su internet, che racconta il passato di Circus Baby. Per chi ha visto il mio episodio in cui parlavo di Sister Location, sa già un pochino di cosa stiamo parlando. Se volete trovare la versione originale in inglese, vi basta cercare su YouTube Circus Baby Backstory, e dovreste trovare e cliccare sul primo video. Quello dovrebbe essere l'audio originale. Però, bando alle ciance e partiamo subito. Sai che una volta ero sul palco? Non stetti per molto tempo. Solo un giorno. Un magnifico giorno, aggiungerei. Eri in una stanza con palloncini e qualche tavolo, anche se non c'era nessuno seduto. Nella stanza c'erano solo bambini che entravano e uscivano. Alcuni avevano paura di me, altri ascoltavano felicemente le mie canzoni. La musica veniva sempre da qualche altra parte, più precisamente in fondo ad un corridoio. Mi ero messa a contare i bambini che andavano e venivano. Non so il perché. Ma sapevo sempre quanti erano nella stanza con me. Due, poi tre, poi due, poi tre, poi quattro, poi due, poi nessuno. Ricordo che giocavano spesso in gruppi da due o tre. Io ero coperta di brillantini, e avevo lo stesso profumo di una torta di compleanno. Ripresi a contare i bambini. Furono due, poi tre, poi cinque, poi quattro. Posso fare qualcosa di speciale? Lo sai? Posso fare il gelato! Ma ne riuscì a fare solo uno quel giorno. Furono quattro, poi tre, poi due, poi uno. Quando arrivo a quell'uno, successe qualcosa. Era una bambina, che mi fissava molto eccitata e felice. Ma non ero più me stessa. E smisi di cantare. Il mio stomaco si aprì l'improvviso, e dentro si trovava un cono gelato. Non riuscì a muovermi, fino a quando lei non si avvicinò. Ci fu un orlo per un momento, ma solo per un momento. Poi altri bambini tornarono dentro, ma non riuscivano a sentirla a causa del rumore. Ogni tanto mi sembra di sentirla ancora. Come mai è successo? E per oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo mio doppiaggio. Ditemi se vi è piaciuto, ovviamente. E niente. La prossima volta dovrei tornare con... con FNAF World, credo. Perciò, chi dire ragazzi? Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Buongiorno. Mi chiamo Fabrizio. E oggi... Oggi come radiotesto vi leggerò il croissant per strada. Ci siamo svegliati per primi. Ci siamo vestiti mossi furtivamente di stanza in stanza con la prudenza di una sentinella indiana. Abbiamo aperto la porta dell'entrata con la meticolosità di un orologiaio. ecco, siamo fuori nell'azzurro del mattino orlato di rosa. Un accostamento di cattivo gusto se non ci fosse il freddo che tutto purifica. Soffiamo una nuvola di fumo a ogni respiro. Siamo vivi liberi leggeri sul marciapiede del primo mattino. Meglio se la panetteria è un po' lontana. Mani in tasca! Abbiamo preceduto in tutto. Ogni passo è una festa. Ci sorprendiamo a camminare sul bordo del marciapiede come facevamo da bambini come se a contare fosse il margine il bordo delle cose. È tempo puro questa spedizione rubata al giorno quando tutti gli altri dormono. Laggiù ci vuole naturalmente la luce calda della panetteria. Luce al neon in realtà ma l'idea del calore le dona un riflesso ambrato. Ci vuole quel tanto di appannatura quando ci avviciniamo è l'allegria del saluto che la panetteria riserva solo ai primi clienti. Cinque croissants è una baguette non troppo cotta. Il fornoio in canottiera infarinata si affaccia in fondo al negozio e ti saluta come si salutano i prodi al momento della battaglia. Comincia il giorno e ci siamo già presi il meglio. Buongiorno a tutti noi siamo Alberto Francesco Davide Davide per il laboratorio Aspidab facciamo la scena 4 di Madagascar. Iniziamo. Chiudi gli occhi. Perché devo chiuderli? Fallo. Sì sono chiudi. Di più. Sì signore. Non sbirciare. No sono chiudi. Rico apri l'hangar. Ah. Fuoco nell'apertura ora mastica. Convinto a sapore. Mmm. Eh. Allora. niente male vero? C'è sempre il piano B. Mmm. Mmm. È molto meglio della bistecca. Mi piace. Mi piace. Al micio piace il pesce. Beh. Salve a tutti ragazzi e benvenuti al laboratorio di progetto Aspidab. Io mi chiamo Andrea. Federico. Oggi parleremo della scena di film di Harry Potter. Il principe di senso sangue. Scena due. Ah. Ehi. Hai ricevuto il mio messaggio. Entra. Come stai? Bene signore. Ti piaccio le lezioni? So che il professor domacorno è rimasto colpito da te. Lui sopravvaluta la mia capacità signore. Ah. E tu? Decisamente. Che mi dici delle tue attività fuori dalle aule? Signore? Ecco. Ho notato che Tascua è molto tempo con la signorina Granger. Non posso fare meno di pensare che... Oh. No. No. Voglio dire è bravissime. Siamo amici. Ma... No. Perdomi. Ero semplicemente curioso. Ma basta con le chiacchie. Ti sarei chiesto perché ti occupavo convocato questa sera. La risposta è qui. Quello che stai guardando sono i ricordi. In questo caso è guardato un solo individuo. Voldemort. O come hai conosciuto allora Tom Riddle. Questa fiera continua un ricordo molto particolare del giorno in cui l'ho conosciuto. Chiarirei che lo vedessi se ne voglia. lo sapeva signore. Allora? Ti avrei conosciuto il più pericoloso mago scuro di tutti i tempi? No. Se l'avessi saputo io. nel tempo che fu qui a Hogwarts Tom Riddle si avvicinò a un professore in particolare. Indovini di quale professore si tratta? Non ha riportato qui il professore Lumacorno solo per insegnare pozioni? No. Hai ragione. Vedi il professore Lumacorno possiede una cosa che io desidero ardentemente e non ci enuncia facilmente. Ha detto che il professore ne avrebbe voluto nella sua collezione. L'ho detto. Vuole che glielo permetta? Sì. Bene. Questo è il laboratorio a SpeedHub. Io sono Andrea Federico e vi auguro tutti una buonanotte. Aggiungeteci un commento o un like se vi piace. Grazie a tutti gli speaker che hanno partecipato a questa nuova puntata di Radio Teatro Otto. Per oggi è tutto. Vi aspettiamo alla prossima puntata.